corrispettivo nel mondo musicale italiano antecedente e quindi devo dire che ci abbiamo messo anima e corpo in questo progetto portandoli a un ottimo risultato per ora insomma anche se naturalmente il loro cammino inizia e tutto questo vi da capire la prima sigla sì grazie Io direi che potremmo spezzare le nostre parole con almeno un bel baglietto di canzoni di quelle che ci chiediamo qua. Sì, due cose, ma fate voi. La prima cosa che ci viene in mente, dai. Ah no, io vi chiederei, c'è di tutte le canzoni che voi avete fatto. Ce n'è una che mi ha migliato veramente emozionato particolarmente, perché tra l'altro è un pezzo che avete cantato verso la fine ed ha avuto anche una, come dire, era nel momento caldo, era il pezzo quando c'erano gli ex, gli uomini, c'era tutto. Però secondo me lì avete fatto una performance fantastica e credo che avete capito questo parano di sci. Ciao! Ciao! Grazie. 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 Grazie.